Società partecipate o controllate da enti pubblici, fra crisi economica e difficoltà gestionali. L'argomento è di strettissima attualità, si vede il caso Brindisi Multiservizi. Ma la partecipata del Comune non è l'unico esempio di questo tipo. C'è anche la Santa Teresa, che fa capo all'amministrazione provinciale, che al contrario di società italiane dello stesso tipo, come ad esempio quelle di Foggia, Palermo, Catania, da sempre gode di ottima salute. Per questo, per capirne peculiarità e caratteristiche gestionali, abbiamo intervistato il direttore e amministratore delegato della Santa Teresa S.P.A., il dottor Riccardo Montingelli. La Santa Teresa S.P.A. è già dal 2006, da quando è stata costituita e avviata, in ottima salute. Un'ottima salute perché è stato sempre gestito dal primo giorno con una mentalità e un criterio imprenditoriale. E quindi abbiamo potuto raggiungere ogni anno dei risultati positivi. Lei ha fatto una premessa all'inizio di questa intervista, non voglio parlare dei fatti degli altri. Allora cerchiamo di cambiare la domanda. Qual è il segreto del suo successo a questo punto, della Santa Teresa? Il segreto del mio successo è anche un orgoglio nostro stesso, è quello che dopo 45 anni di esperienza penso di aver insegnato e di aver messo in atto quello che è stato frutto di tanti anni di sacrificio. I risultati sono frutto di una rigida applicazione delle procedure che la legge impone per la gestione delle società a capitale pubblico. È stato adottato il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001. Il decreto è previsto proprio, è un modello organizzativo, tecnico e giuridico. Cioè è la storia della società, è la vita della società. In merito invece alle assunzioni di personale, quali sono i vincoli, quali sono invece i regolamenti che vanno rispettati? Ma proprio in questo modello 231, che poi è un modello anche che evita reati, evita anche errori, e quindi è una gestione perfetta. È previsto anche le modalità di acquisto, le modalità di assunzioni. Cioè le società con capitale pubblico di maggioranza, parlo di capitale, società di capitale in qualsiasi genere, SRL, SPI, qualsiasi voglia, devono rispettare quello che è la legge e quello che abbiamo detto 231. Cioè deve essere ad evidenza pubblica. Procedure altrettanto inflezibili sono quelle per la fornitura di beni e servizi conformi al dettato del codice degli appalti. Naturalmente per vigilare sul corretto svolgimento dell'iter esiste un apposito organismo, oltre al controllo effettuato per legge dall'ente proprietario, che effettua il controllo analogo simile a quello che ogni amministrazione locale fa sui propri servizi.